Continuate ad essere servi di Cristo e dei poveri, nell'identità che vi ha dato Don Orione, vigilando sempre perché la fede non diventi ideologia e la carità non si riduca a filantropia e la Chiesa non finisca per essere una ONG. Così Papa Francesco si è rivolto ai membri della piccola opera della Divina Providenza, fondata da San Luigi e Orione, riuniti per il loro capitolo generale, nel quale è stato eletto il nuovo superiore generale, il brasiliano padre Tarciso Vieira. L'annuncio del Vangelo, ha proseguito il Papa, richiede oggi tanto amore al Signore, unito ad una particolare intraprendenza. Ho saputo che ancora vivente il Fondatore, in certi luoghi vi chiamavano i preti che corrono, perché vedevano sempre in movimento, in mezzo alla gente, con il passo rapido di chi apre mura. Amore è sin via, ricordava San Bernardo. L'amore è sempre sulla strada, l'amore è sempre in cammino. Con Don Orione, anch'io vi sorto a non rimanere chiusi nei vostri ambienti, ma andare fuori. C'è tanto bisogno di sacerdoti religiosi che non si fermino solo nelle istituzioni di carità, pur necessarie, ha concluso Papa Francesco, ma che sappiano andare oltre i confini di esse, per portare in ogni ambiente, anche il più lontano, il profumo della carità di Cristo. Non perdete mai di vista né la Chiesa né la vostra comunità religiosa, anzi il cuore deve essere là, nel vostro cenacolo, ma poi bisogna uscire per portare la misericordia di Dio a tutti indistintamente. Grazie. Grazie. Grazie.